Grazie a voi per la presentazione, grazie a voi per l'invito, questa relazione ringrazio appunto per il compito che mi è stato dato di riparlare di quanto fu già accennato a suo tempo nel 2018 in occasione della presentazione del primo rapporto sull'incidenza delle malattie infettive in Toscana, quando appunto fu presentato quello che era il passaggio dal vecchio sistema, scusate non riesco ad andare avanti, ecco, quando fu presentato l'adesione della Toscana al sistema nazionale di sorveglianza al SISPREMAL in sostituzione di quello che era il precedente sistema SIMI. Adesso siamo arrivati, abbiamo visto nella relazione precedente, al primo rapporto sulla diffusione delle malattie infettive in Toscana basato appunto su questo nuovo sistema di sorveglianza. I limiti del precedente sistema erano ormai noti e tutti li addetti ai lavori e era un sistema che era attualissimo nei primi anni 90 ma che a distanza di oltre due decenni era diventato ormai obsoleto, pensiamo solo alla componente informatica, il SIMI rappresentava l'informatizzazione delle malattie infettive ma quella che era l'informatizzazione ai primi anni 90 rispetto a quello che era nel 2015-2020, il 2018 quando poi la Toscana ha deciso di aderire era ovviamente tutto un altro mondo. Adesso quindi cosa abbiamo? Abbiamo un sistema sicuramente che permette una maggiore tempestività delle comunicazioni, una migliore qualità dei dati, anche questo appuntatevelo perché dopo vi sarà utile, una maggiore completezza delle informazioni e con una flessibilità tant'è che da quando abbiamo aderito come Toscana sono state inserite nuove malattie perché sono state ritenute oggetto di attenzione particolare, pensiamo all'erbovirosi, pensiamo alle infezioni correlate all'assistenza e varie altre. Permette una migliore produzione dei report sia a livello annuale, tipo il rapporto che ci ha fatto vedere i dottori innocenti, ma anche a livello proprio operativo pratico di poter vedere in tempo reale qual è l'andamento di queste malattie sul proprio territorio. Quello che era un po' un timore da parte degli addetti a lavori perché comunque si perdeva un sistema di lavoro ormai rutinario e si andava verso un sistema nuovo che faceva un po' timore soprattutto per quanto riguarda anche i possibili carichi di lavoro, devo dire che l'impatto è stato molto tranquillo, gli operatori hanno preso rapidamente confidenza con il nuovo strumento e è diventato di uso corrente senza particolari problematiche, tant'è che questa è la scheda di inserimento che ormai tutti conosciamo, abbiamo preso ormai confidenza anche con gli alert che ci arrivano perché alcune malattie infettive generano un alert che è visibile a tutti in modo che si possa prestare particolare attenzione a quella patologia e sono alcune malattie appunto che sono codificate per la produzione di alert, abbiamo preso confidenza con i criteri europei per la definizione di caso, quindi casi confermati, possibili, probabili, con i criteri di validazione perché tutto questo sistema si valida sull'operatore del dipartimento di prevenzione che valida la segnalazione una volta espletate tutte le operazioni che devono essere espletate, dopodiché ci sono altri due livelli di validazione che sono quelli regionali e quelli del Ministero della Salute. Così come abbiamo preso confidenza con la gestione dei focolai, la gestione dei focolai precedentemente era un po' artigianale, attualmente abbiamo un sistema informatico che permette di collegare i vari casi l'uno all'altro in modo che per quelle patologie in cui è previsto poter appunto definire dei focolai epidemici e poi gestirli e averne anche la possibilità di fare le dovute valutazioni epidemiologiche. Per quanto riguarda le criticità, io direi che più che criticità parlerei di lavori in corso, cioè cose che magari erano in divenire e che si sono ulteriormente rallentati per effetto del Covid. Da un punto di vista proprio formale è stato detto che il Premal ha sostituito il Simi, in realtà non è ancora così perché prima di tutto non so se ancora tutte le regioni hanno aderito, ma soprattutto la normativa di riferimento, il DM del 15-12 del 1990, non è ancora stato aggiornato, non è ancora sostituito, per cui di fatto anche la suddivisione delle malattie infettive in cinque classi, anche se ormai superata, è ancora però cogente. Sono ancora attive tutte le sorveglianze speciali a cui si è aggiunto il Covid e quindi c'è la necessità di doppia registrazione, di doppia verifica dei dati in più piattaforme. Anche questa era una cosa che il Premal doveva tendere a superare e che è un processo che in questo momento si è un po' stoppato. Il Covid ci ha portato anche a qualche piccola problematica sulla validazione e quindi di conseguenza il fatto che ci siano un po' di notifiche si sono annullate perché non sono state validate nei tempi giusti. Questo è un problema tecnico, ma che nel 2020, quando gli operatori sono stati impegnati quasi esclusivamente nell'emergenza Covid, ha portato a un aumento delle segnalazioni annullate perché non sono state valutate in tempo. Inoltre, come già si disse nel 2018, è da definire una possibile integrazione con altri applicativi regionali. In questo momento abbiamo il SISPC per monitorare le attività connesse tipo le inchieste epidemiologiche che nel Premal ovviamente non possono essere conteggiate oppure per monitorare anche le altre malattie infettive che non sono comprese nel sistema Premal perché ce ne sono tante, ci sono quasi tutte, ma non ancora tutte. Anche sul sistema di sorveglianza il Covid ha avuto un impatto. Noi sappiamo che ovviamente i nostri servizi nel 2020 si sono concentrati quasi esclusivamente per tutto l'anno nella gestione dell'emergenza e quindi molte attività sono state sospese o ridotte comprese anche quelle delle vaccinazioni stesse ma anche quelle della sorveglianza epidemiologica delle altre malattie infettive. I dati preliminari che dopo vi mostro e che già Francesco Innocenti ci ha accennato evidenziano nel 2020 un netto calo delle altre malattie infettive non Covid. In controtendenza invece la gestione del Covid-19 ha portato all'adeguamento delle piattaforme informatiche regionali in particolare la piattaforma SISPC che è in grado attualmente di dialogare anche con le piattaforme del Covid dell'Istituto Superiore di Sanità e che potrebbe essere utile in futuro per dialogare anche con la piattaforma Premal. Tralascio ma poi ci ritorno dopo magari sul discorso della penuria di personale e di servizi di prevenzione. Questa appunto è la piattaforma del SISPC del SISPC come è stata adeguata durante l'emergenza pandemica e quindi ora noi abbiamo dei registri che ci consentano di inserirci i casi attualmente ci mettiamo il Covid ma può essere sfruttato poi in futuro anche per altre malattie i contatti, le inchieste effettuate, i registri di laboratorio è previsto anche la segnalazione da parte dei medici di famiglia quindi è un sistema che potrebbe una volta superata l'emergenza essere attuale anche per altri tipi di malattie. Questo è un po' un'analisi dei dati preliminari delle notifiche del 2020 presa in maniera molto artigianale quindi non formalmente, statisticamente precisa ma comunque le ho estratte rapidamente dal sistema Premal vedete il calo netto delle notifiche appunto nella ASL Toscana Centro nel 2020 rispetto al 2019. È un fenomeno che sicuramente andrà analizzato meglio probabilmente già prima della prossima occasione del quarto report della sorveglianza delle malattie infettive in Toscana e le cause possono essere varie appunto e andranno bene analizzate con altri metodi magari. Sicuramente per alcune malattie c'è stata una minore incidenza per effetto delle misure preventive contro il Covid quindi le misure di distanziamento, le misure di igiene e la protezione respiratoria sicuramente hanno agito nei confronti in primis delle malattie a trasmissione respiratoria probabilmente anche nei confronti di altre la riduzione dei viaggi ovviamente ha ridotto le malattie legate a questo tipo di spostamenti consideriamo però, e la butto lì poi anche questa sarà ovviamente da verificare un minore accesso ai servizi sanitari che si è verificato in occasione delle ondate epidemiche quindi magari alcune malattie e quelle meno gravi sicuramente non sono venuti a conoscenza dei medici e dei sanitari e quindi non sono state notificate oppure anche un maggior tasso di sottonotifica magari anche malattie che invece sono state identificate che magari è passato poi è stato magari dimenticato con tutte le altre cose che c'erano da fare di inviare la segnalazione a noi comeppure è possibile che anche da parte dei nostri servizi si sia perso qualcosa per la strada che quindi qualche malattia non sia stata notificata oppure come dicevo prima che non sia stata poi validata tant'è che abbiamo visto anche per l'influenza ce l'ha già accennato il dottor Innocenti di fatto l'influenza da noi in Italia è ancora a livelli basali e quindi al di là della vaccinazione che non credo abbia intuito in questi termini sicuramente c'è una minore circolazione di alcuni patogeni soprattutto quella trasmissione respiratoria andando un pochino più nel dettaglio come vedete noi abbiamo da una parte alcune malattie tipo malaria, arbovirosi per certi versi anche l'epatite A che sono legati essenzialmente a viaggi e alle migrazioni e che sono molto molto ridotte come nel confronto 2020-2019 abbiamo le malattie tipicamente a trasmissione respiratoria tipo la varicella, il morbillo stesso abbiamo un netto calo, un dimezzamento delle malattie invasive e batteriche nel loro insieme anche malattie da contatto tipo la scabbia per queste sono quelle che accennavo che probabilmente c'è stata ancora una sottonotifica nel senso che in quei mesi la gente aveva difficoltà a farsi fare una visita quindi a anche identificare certi tipi di patologie ma volevo un attimo accennare la desionellosi è oggetto della relazione successiva e quindi sarà interessante poi capire se questo dato del 2020 come può essere interpretato e la tubercolosi la tubercolosi nella stragrande maggior parte dei casi come sappiamo non è una malattia la cui espressione è legata a un contagio recente ma è quasi sempre una riattivazione dell'infezione di vecchia data per cui questo calo così significativo della tubercolosi effettivamente andrebbe capito meglio se si tratta di sottonotifica se si tratta di casi non diagnosticati o quant'altro andando a concludere quali sono le prospettive di questo sistema Premal si auspica che finalmente il DM del 1990 venga superato si auspica di poter lavorare meglio su questo sistema anche con dei bollettini epidemiologici di ASL che possono essere diffusi ampiamente restituiti ai medici notificatori perché comunque tra le iniziative per ridurre la sottonotifica oltre all'utilizzo di altre fonti informativi come il laboratorio e l'esperienza del covid ce lo dimostra è necessario anche avere un feedback che fa capire quindi ai medici notificatori l'importanza di questo strumento e della notifica ovviamente la prospettiva è anche di avere degli strumenti gestionali unici e integrati e anche il coinvolgimento delle direzioni sanitarie dei medici di famiglia e che si era detto nella fase iniziale potevano dialogare direttamente con il Premal e che vediamo nel futuro se questo sarà possibile quindi in conclusione direi che l'introduzione del nuovo sistema di notifica e di sorveglianza ha sostanzialmente portato i vantaggi sperati senza grossi inconvenienti anche se si deve andare ancora definitivamente a regime l'esperienza covid ha permesso un adeguamento di sistemi informativi ho già detto appunto abbiamo visto attualmente il calo delle notifiche del 2020 che andrà sicuramente indagato meglio e infine speriamo perché comunque al di là dell'emergenza covid la sorveglianza epidemiologica rimane un aspetto fondamentale di sanità pubblica che anche quel minimo rafforzamento di personale dei dipartimenti di prevenzione si confermi e sia stabilizzato per fronteggiare sia le future emergenze ma anche tutte le attività rutinarie grazie Grazie Paolo davvero per la tua brillante relazione ci sono molte domande purtroppo io devo veramente selezionarne una perché siamo in un ritardo clamoroso essenzialmente ti farei quella più riguardante al sistema informativo allora tu come credi che questi sistemi possano diciamo coesistere noi abbiamo anche CISPC poi dentro la regione foscana allora qui si crea un po' il problema probabilmente della proliferazione di sistemi in cui poi il personale giustamente è quello che sappiamo essere e sappiamo poi ovviamente abbiamo visto quanto poi è fra virgolette andato in crisi visto il lavoro è stato fatto per il covid in un'emergenza allora il dover inserire più volte le stesse informazioni B probabilmente anche forse non avere e qui richiamo un po' un pezzo della domanda del dottor Tulli la questione di una cartella clinica informatizzata probabilmente generale del paziente sul quale poi si possa fare riferimento una volta sola, in un momento solo e anche poi per fare tutte le analisi successive che devono essere fatte non solo a livello clinico ma di back office per capirne l'andamento in caso di outbreak capire collegamenti epidemiologici qual è la tua idea Paolo? no no sicuramente, sicuramente c'è da lavorarci molto da un punto di vista degli operatori è chiaro che dover registrare le cose spesso da tre parti parliamo del premal, della sorveglianza speciale che per molte malattie c'è e poi c'è anche il CISPC dove magari ci contano le attività questo sicuramente a parte la possibilità di errori come sai benissimo crea anche una dispersione che sicuramente non va bene io non sarei pessimista nel senso che forse come cercavo di dire prima l'esperienza del covid che ha portato nel giro di pochi mesi a implementare la piattaforma CISPC in maniera velocissima formalmente è stato fatto in pochi mesi il lavoro che normalmente sarebbe stato fatto nel giro di un anno e l'ha portato a dialogare con il sistema con il sistema appunto dell'istituto superiore di sanità teoricamente era stato aperto anche alle segnalazioni dei medici poi è stato bloccato perché le cose non è che funzionavano però sicuramente arrivare a una piattaforma unica integrata penso sia non solo opportuno ma anche necessario grazie a tutti